Partiamo da alcune considerazioni. Siamo in un periodo eccezionale. Nei miei 70 anni di vita non mi sono mai trovato davanti a un momento simile. Allora in un momento eccezionale servono iniziative eccezionali. Questo lo dicono tutti. Quindi ognuno dovrebbe poter fare quello che può anche per dimostrare qualcosa che ha a che fare con la solidarietà in questo momento. Insomma ci si dà da fare per quello che si può. Siamo anche in un momento in cui l'editoria italiana è in crisi. Le librerie sono chiuse e se vado a leggere quanto scrive nelle librerie non è solo grave il danno che sta subendo il settore oggi alle prese con la cancellazione e la riprogrammazione delle fiere dei saloni nazionali e internazionali. Stiamo rischiando, spiega Levi, dell'AIE, dell'Associazione Italiana Editori, un circolo vizioso fatto di calo di consumi, cui segue diminuzione delle prenotazioni, delle tirature, quindi del lancio delle novità. Questo si può tradurre in un calo della lettura, i cui bassi indici già adesso segnalano che siamo in emergenza. L'Italia che uscirà dalla crisi coronavirus non può permettersi di ripartire senza libri e lettori. Anch'io sono convinto che c'è bisogno di libri e di lettori. Per fortuna ci sono dei libri che si possono diffondere, leggere o ascoltare anche nel momento di chiusura della libreria. E credo che il bisogno del lettore o il bisogno della gente, insomma, anche di poter avere delle storie da ascoltare. In questi momenti dove si rischia, anche con l'andare del tempo, insomma, una situazione di tipo depressiva, insomma, oppure un qualcosa che ha a che fare con una modificazione dell'umore, del benessere psicologico. La lettura o l'ascolto di storie, di libri può essere qualcosa che viene in soccorso alla buona parte della popolazione, insomma. E' un aiuto che si può dare, chi sa ovviamente trarne profitto, quello di poter offrire delle storie e offrirle ovviamente gratuitamente. Il mio desiderio sarebbe quello di poter fare questo, qualcosa che ritengo di sapere un po' fare. Insomma, in questo momento, come medico non sono più in grado di agire, anche perché sono in pensione da un po', quindi, insomma, poi non sono un rianimatore, insomma, non sono uno che potrebbe stare in prima fila. Nel caso ci sarà necessità, potrei mettere a disposizione le mie competenze di neurologo, ma certo non in una situazione ospedaliera, insomma. Ma non credo, ma credo che si possa lavorare anche da casa o anche, diciamo, nel territorio. Comunque questo si vedrà. Per intanto quello che si può fare stando a casa, a 70 anni, è quello che provo a fare, insomma, è quello di leggere storie, di leggere libri. E allora l'appello è questo. Io ho tanto materiale che ho dovuto togliere da YouTube perché, come sapete, insomma, uno, YouTube mi aveva tolto la monetizzazione. E poi perché comunque è un brutto segnale essere penalizzati nell'ambito di YouTube, che vuol dire che ti possono anche chiudere il canale. L'altra cosa, insomma, che era arrivata, per la quale ho rimosso questa quantità di video, di libri, anche insomma di letture, che c'era nel mio canale, è stato un avvertimento da parte dell'AIA e dell'Associazione Autori Editori, perché evidentemente questo andava a toccare i loro interessi, insomma, e quei diritti che si richiamano alla legislazione del copyright, che possiamo criticare, ma che esiste. E a questa io ho inteso tenere fede, insomma, no? Quindi ho rimosso tutta una serie di quantità di materiale. Come tutti riconoscono, adesso viviamo in un momento difficile, diciamo pure eccezionale, in cui potrebbero anche venire a mancare i soldi a chi volesse anche comprare libri, chi viveva di un'economia di sussistenza, chi viveva di lavori precari, chi viveva di lavoro autonomo, che andava avanti giorno per giorno, magari con tante difficoltà, magari anche con debiti in atto, ovviamente si trova completamente spiazzato. La prima cosa a cui deve pensare e mangiare, dando a mangiare i propri figli, è difficile che possa pensare di comprare libri e tra l'altro le librerie sono chiuse. Allora, in questo momento io credo che potrebbe essere di servizio, di aiuto, insomma, poter mettere a disposizione quello che è stato tolto. Ovviamente questo, come dire, per me è un rischio, però in situazioni eccezionali bisogna anche cercare di fare delle cose eccezionali. Allora chiedo all'AIE, all'Associazione Italiana Editori e a YouTube, insomma, a YouTube Italia, insomma, quello che controlla, insomma, e vedo che controllano quello che noi facciamo, chiedo la, come dire, l'attestazione che stiamo vivendo in tempi eccezionali e che mi autorizzi in qualche modo, insomma, più o meno direttamente, ma insomma, che mi dia un segnale, che mi diano un segnale. L'AIE e YouTube che, magari uno alla volta, si possono postare, se non tutti, insomma, alcuni dei video che sono stati rimossi, alcuni dei libri che ho dovuto togliere e che erano libri anche interessanti, secondo me, insomma. L'impegno da parte mia è quello di pubblicarli nel mio canale e di non monetizzarli, quindi di non farne uno strumento di guadagno e quindi di farne un'opera di servizio. Mi pare di aver capito anche dai vostri commenti che questa cosa è utile, serve, serve a superare soprattutto certi momenti di difficoltà che capitano nella vita, insomma. E la testimonianza viene anche da parte mia, insomma, che non adesso, ma in momenti di difficoltà che ho avuto legati alla malattia, per esempio a stare a letto, poter avere delle storie da ascoltare, magari degli appuntamenti serali con queste storie. Posso far cenno, insomma, a un momento particolare che è stato nel 97 e qui mi è stato di molta compagnia, per esempio la lettura che ha fatto Baricco di furore a puntate per un mese, insomma, era un appuntamento che aspettavo, come forse ho già detto, insomma, ogni sera. E allora questa cosa può essere di giovamento a chi sta male, a chi ha anche delle difficoltà emotive, eccetera, a chi ha bisogno anche di essere, come dire, per un po' estraniato dalla propria quotidianità, dai propri problemi quotidiani e magari riportato in un mondo in cui può ancora in qualche modo fantasticare, sognare, proiettarsi, insomma, andare al di là di quello che è la quotidianità di oggi che rischia di essere monotona, se non piena di giorno in giorno, di novità magari non tanto belle, insomma. La richiesta è questa, insomma, l'ai a YouTube di poter ripostare, magari uno alla volta, magari con l'impegno che una volta che questa situazione di emergenza è finita, rimuoverò nuovamente questi video, insomma, li riposterò senza monetizzarli. E quindi di avere un segnale, insomma, in modo che non mi arrivi un'altra volta una lettera dall'avvocato che mi minazza magari sanzioni legali per questo. Non vorrei fare qualcosa che ritengo qualcosa di buono, insomma, di servizio, per conto mio, di solidale. Diciamo così, e poi incorrere in sanzioni legali. Chiedo a voi di sostenere questa iniziativa, chiedo a voi di sostenermi, di far capire con i vostri messaggi che questa cosa non pregiudica le vendite dei libri, che non mette in crisi l'editoria italiana, che non sono un'alternativa, ma semmai a volte questa cosa può contribuire invece a promuovere certi libri che spesso magari sono dimenticati, sono passati tra quello che diventa introvabile, tra i libri che non sono più in commercio, insomma. No, sappiamo come si esaurisce rapidamente, si esauriscono rapidamente le proposte librarie. Ecco, se allora voi mi date un sostegno da questo punto di vista, io con queste premesse proverai magari a rimettere, insomma, qualche video che ho, qualche libro che ho dovuto togliere. Capisco che è un rischio, ecco, allora da parte mia, perché vengo a trasgredire una norma, ma capisco anche che in questo momento molte regole, molte norme sono messe da parte e anche molte libertà, no? Perché c'è uno stato eccezionale che dovremmo affrontare tutto insieme, ecco. Questo sicuramente non minaccia la salute che è messa al primo posto, anche, diciamo, prima degli affari, no? Non minaccia la salute, anzi, insomma, secondo me è un supporto a mantenere un minimo di benessere anche psichico in chi per fortuna, insomma, non è stato contagiato, ma che deve stare a casa, in quarantena, insomma, deve stare a casa, non può più muoversi. E allora io farai questo, insomma, perché è quello che in questo momento so fare, è quello che in questo momento, con cui in questo momento potrei contribuire, insomma, da parte mia, insomma, dare un minimo contributo e poi vedremo cos'altro sarà possibile fare. Qualcuno mi ha chiesto di... come può fare eventualmente a supportarlo? Ecco, supportatelo con i vostri commenti, pensateci anche voi, insomma, no? Come poter chiedere che ciò avvenga senza che costituisca sanzioni. E cercate anche di spiegare come questo non è un'alternativa alle vendite, insomma, non rappresenta una concorrenza asreale, non rappresenta delle perdite per quello che è l'editoria, insomma. Come a volte anche mi avete detto, insomma, no? Che certi libri che poi avete comprati non li avreste mai conosciuti e quindi non li avreste neanche mai comprati, se non ne aveste sentito parlare. Ecco, mi fermo qua con questo breve video, insomma. Questa è una cosa che si potrebbe fare, insomma, che non ha nessun costo, che potrebbe dare qualche beneficio, insomma, ad alcuni di voi, a molti, dipende da come consideriamo i numeri, insomma. Vediamo, insomma, io provo, insomma, magari provo a rischiare qualche... qualche libro che ho tolto, ripeto, non manotizzandolo e sperando che se questa cosa disturba qualcuno, prima di ricorrere a misure, a sanzioni, a minazze, attraverso lettere, attraverso lettere dell'avvocato, insomma, abbia la bontà di mandarmi magari una mail, eccetera, eccetera, e di farmi capire che devo smettere di fare questa cosa, cioè che ancora, nonostante l'emergenza, non si può fare. Io prometto, in questo caso, che toglierò, insomma, toglierò quello che è stato messo, toglierò quello che avrò messo, insomma, non posso fare altro, insomma. Tutto qua. Arrivederci.